Sì, volevo spararci dentro, che magari è semplicemente un po' di sporco, non è una radice. Ma scusa, voi non lo vedete, sei solita. Sì, signora, lo vedo, sei solita. È in discesa. È tutto in discesa, se no la mia telecamera andrebbe contro l'acqua e non vedrei qui niente, invece vedo tutto bene. Sì. 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 Sì, ragazzi, ho, may nahigup na basahe. Buti, non di nagbara sa iluduro. Non di nagbara sa tubo. L'alienzio è iluduro. Nahigup noong bakiom. Pero, klasi, matagal na ito, ho. Sì, sì, sì.